Negli episodi precedenti di Vinyl Care, la rubrica dedicata alla manutenzione dei nostri amati vinili e tutto quello che gli gira intorno, avevamo parlato di buste esterne, buste interne e alcuni accessori e consigli per la conservazione corretta dei nostri vinili. E una volta che abbiamo appreso la magia del come imbustarli, amarli e glorificarli, dobbiamo anche pensare a dove e come sistemarli. Ve ne parlo in questo video in cui vi proporrò 5 consigli utili e alla portata di tutti, dal neofita all'esperto. www.vinylcare.com Nella playlist avrei potuto prelevare delle immagini dalla rete e Instagram è pieno zeppo di esempi validi, oltre che di signorine in abiti succinti e un vinile in mano. Ma che gusto ci sarebbe stato? Allora ho chiesto direttamente a voi, almeno a chi tra di voi è sul canale Telegram, ho chiesto di inviarmi i vostri scatti che saranno utili per mostrare delle varianti sia per la disposizione che per i modelli e prezzi della mobilia dedicata ad accogliere i nostri amati vinili. I commenti qui sotto serviranno per condividere le vostre preferenze, ossia come vi comportate con la vostra collezione, cosa utilizzate e perché. Se avete visto le puntate precedenti già saprete che io mi affido a santo Kallax da Ikea. Il patrono dei collezionisti bisognosi di risparmiare. Il Kallax è un mobile prodotto in svariate combinazioni, grazie alle quali è possibile comporre delle discoteche di tutto rispetto. È perfetto per chi ha collezioni più contenute, magari con blocchi da uno o da due, ed è perfetto per chi ha collezioni più ampie. I pregi del Kallax sono molti, costa poco, è leggero ma robusto ed è fatto a blocchi, per cui il peso dei nostri vinili è distribuito meglio che non sui mobili simili, ma con un ripiano unico che spesso nel corso del tempo presenta il classico avvallamento centrale dovuto al peso sopportato. I due mobili Kallax più grandi che ho qui nel mio studio, ossia questo qui che vedete sempre alle mie spalle e questo, di fronte a me, hanno sopportato la bellezza di tre traslochi nel giro di dieci anni, anzi di più, dodici anni, con relativi smontaggi e rimontaggi e non danno alcun segno di cedimento. Certo, sono un po' ammaccati, ma che significa? Nel corso del tempo ho aggiunto colonne da quattro, blocchi da due e da uno, non solo per ampliare la discoteca, ma anche per inserire una piccola parte della mia biblioteca musicale, gadget, eccetera. Mai avuto un problema. Per me è il mobile perfetto, ma vi dico anche che la mia compagna li trova orribili e mi concede di acquistarli solo perché questo studio è territorio mio, per lei è off-limit. In compenso per me è off-limit tutto il resto della casa. Puoi dirlo forte. Ecco, appunto, e sono sicuro che anche per molti di voi sarà così. Quindi, in definitiva, per essere obiettivi, l'unica critica che mi sento di rivolgere al santo Kallax è che è un MDF, quindi non si tratta di un mobile appagante né al tatto né alla vista. Ecco perché arriva il consiglio numero due. Se lo stile del Kallax e dell'IKEA in generale proprio non fanno per voi, più di un'alternativa arriva dalla community. Grazie ad Emiliano, Paolo e Gianluca che mi hanno inviato questi brevi clip e questi scatti. Il mobile di Emiliano viene da Conforama, che ha anche altre soluzioni interessanti dal punto di vista del design. hanno punti vendita fisici e uno store online, per cui possiamo ordinare e far arrivare quello di cui abbiamo bisogno direttamente a casa nostra. Naturalmente, se uno ci va fisicamente a guardare e a toccare, è meglio. Per le misure dei vari mobili trovate tutto sul loro sito, stessa cosa per i vari modelli di Kallax sul sito di IKEA. Il mobile di Gianluca viene invece da Maison du Monde. Ha un prezzo più importante, ma esteticamente e costruttivamente è proprio un'altra cosa, naturalmente in positivo. Come già detto per Conforama, anche Maison du Monde offre soluzioni alternative e alcune sono consigliate direttamente nella pagina di questo prodotto. Il mobile di Paolo è più essenziale, ma non per questo meno solido e può essere acquistato sul sito di Beliani. Anche qui, nella stessa pagina, ci vengono proposte delle soluzioni simili. Per tutte queste opzioni e per il classico Kallax, ricordate che tutte le misure sono sui rispettivi siti, quindi consultatele per bene e se vi interessano tutti i link sono in descrizione. Naturalmente i link li inserisco per vostra comodità, io non ci guadagno un centesimo. Sia chiaro, non collaboro con nessuna di queste realtà, perlomeno non ad oggi e non per questo video. Se poi Ikea o altri vorranno riempirmi lo studio e la casa di scaffali e buste richiudibili che finiscono sempre troppo presto, io sono qui. L'ultima alternativa, quella più costosa, è quella di farsi fare un mobile o una serie di mobili su misura in legno massello. Ma per questo dovete rivolgervi per forza al mobilificio più vicino a casa vostra. Torniamo sul Kallax, che oltre ad essere la mia scelta è anche quella più diffusa. Sono sicuro che molti di voi lo avranno posizionato orizzontalmente e alcuni di voi mi hanno anche inviato le prove. Se vi trovate bene così, continuate a tenerli in questo modo. Ci mancherebbe altro. Io ho privilegiato la verticalità, non solo per come ho sistemato il resto dello studio. Questo è un mobile 5x5, questo qui bianco, quello che è sempre alle mie spalle nei miei video. Questa è una colonna da 4, dove ho inserito una piccola parte della mia biblioteca musicale, e sopra c'è un blocco da uno. Insomma, quindi io ho modulato il mio spazio grazie ai moduli Kallax di Ikea. Dicevo, io preferisco dare verticalità alla collezione perché il ripiano più in basso di tutti i miei mobili Kallax è riservato ad altre cose. Ad esempio, qui in basso ci sono le riviste. Ci sono le riviste, qui c'è il mucchio, vedete che è scritto che numeri ci sono. Qui stessa cosa, anche se non si vede. Naturalmente perché per il blocco più in basso ho inserito questi raccoglitori e all'interno le riviste e non ci ho messo i vinili. Perché? Perché il blocco più in basso è quello più a contatto col pavimento. Quindi è quello dove ci va più polvere, dove si muove più polvere. E sappiamo che la polvere è nemica del vinile. Quest'altro blocco del Kallax è vuoto per inserire un po' di cavetteria. Qui ci sono altre riviste. Eccole qua. Lì dei libri appoggiati, ma anche lì troviamo delle riviste. A proposito di riviste e di come conservarle, ecco, magari non così per preservarle a lungo tempo, anche se queste riviste in realtà hanno tra i 20 e i 30 anni, quindi non è così malvagia la loro conservazione, però diciamo che per fare un lavorino fatto bene seguite quello che consiglia magari Manuel in questo video sui fumetti, Manuel di 8-bit. E poi mi ha detto che prossimamente farà anche un video sulla conservazione di riviste, con le buste appropriate, eccetera, eccetera. Quindi tenetelo d'occhio. Non solo, c'è un altro motivo per cui non inserisco i vinili nel ripiano più in basso. Ecco, lo vedete? I gatti che mi ospitano solitamente qui non entrano per quanto io li adori, ma ci sono troppi anfratti in cui intrufolarsi e fare danni. Che fai lì? Eh? Oh! Che fai? Vieni qua! Linda! Vieni! Ehi! Ti alberebbe, eh? Guarda, 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 guarda. Ecco, questo va evitato. Lei mi pareva vero, guarda, come è contenta! Però, insomma, anche perché non c'entra mai qui, quindi è il caso di ciacciare dappertutto, però ti avviso, Linda, che è una pacchia che dura poco. Dura solo per il video. Sì, sì. Fa come vuoi. Ma anche se dovessero entrare, eh, Lindina, e ogni tanto succede, se avessi i vinili anche nel ripiano più in basso si metterebbero a mordicchiare le buste e le copertine. Avete visto, no? Stava già iniziando. Visto che i gatti impazziscono per tutto ciò che sfrigola o ha un bordo su cui strusciarsi e il vinile ha degli angoli irresistibili per i nostri amici pelosi. Stesso ragionamento, stai brava, eh, stesso ragionamento se abbiamo dei bambini piccoli che, come sappiamo, vogliono toccare tutto ciò che è alla loro altezza. Quindi, ecco, ci sono dei motivi logistici, pratici e di preservazione per cui preferisco sviluppare la mia collezione Kallax in verticale. Per quanto riguarda i raccoglitori, vi ho già fatto vedere che per le riviste ho utilizzato questi che sono quelli più economici. Poi ci sono questi sempre piuttosto economici che hanno due scomparti. le ho scelti apposta per le buste. Qui ci sono quelle esterne e qui ci sono invece quelle interne, le inner sleeve, quelle di scorta, insomma, perché quelle che utilizzo abitualmente quando sono qui nello studio le inserisco per praticità qui in queste cassette e ora ci arriviamo, anche su queste. altrimenti sempre a cassetto ci sono queste che richiedono un po' di manovalanza in più per essere montate però sono tutta un'altra cosa sempre mdf sempre ikea però la struttura è molto molto diversa questa è stoffa insomma si vede anche da come viene manipolata. Vedete però qui questo dettaglio eccolo qua quella vite lì praticamente per consentire il posizionamento di cassetti la struttura l'anima deve essere fissata al Kallax quello principale io vi confesso che avevo optato per questi per sostituire questi per inserire le buste sia esterne che interne perché vedete anche questi hanno due hanno due cassetti vi faccio vedere subito che però qui le buste non ci entrano o se ci entrano ci entrano giuste giuste e non si fa una bella cosa quindi nulla avete visto e ci inserisco accessori e cosine vari ecco qui ci sono amplificatori cuffie scheda audio in quest'altro ho inserito gli accessori per la manutenzione e la pulizia quindi in questi cassetti le buste non ci vanno né quelle interne né quelle esterne per 33 giri però se li volete usare per le buste da 45 giri potete usarle una volta che abbiamo montato il nostro Kallax va riempito ecco da questo punto di vista non dovrei avere problemi questi sono gli ultimi mobili arrivati se ricordate i vecchi video non erano presenti insomma sono già belli pieni quindi allora per farvi vedere come sistemare i vostri dischi nel Kallax utilizzo questo blocco che di solito riservo a un libro così vediamo come comportarci prima di riempire i nostri scaffali due parole voglio spenderle sulla profondità del Kallax che va già bene così com'è però se volete avere i vinili un pochino più a filo come qui vi do un suggerimento intanto vi dico che metto il vinile in questo modo a favore di camera così capite meglio altrimenti mettendolo così vedreste molto meno si capirebbe meno quindi vedete che qui non c'è spessore c'è il pannello fonoassorbente che è la parete praticamente c'è un piccolo divario ma praticamente sono a contatto il Kallax è a contatto col pannello fonoassorbente bene fate conto che quella sia la parete va bene ok mettiamo il vinile vedete quanto stacco c'è dal vinile al bordo è vero che possiamo modificare il posizionamento come vogliamo però quando abbiamo molti vinili quelli singoli movimentandoli tra di loro finiscono un pochino più indietro cioè un pochino più in giù un pochino più profondità poi insomma rimangono disallineati e a me questo non piace preferisco avere uno spessore dietro in modo che oltre quello spessore il vinile non vada non si perda guardate qui vedete posso spingere quanto voglio ma i vinili rimangono sempre alla stessa altezza cosa che non succede se lo fate quando c'è uno stacco del Kallax dalla parete quando c'è una differenza quando il Kallax non è adeso alla parete come ad esempio succede qui io preferisco avere i vinili un pochino più a filo quindi facendo varie prove nel corso degli anni alla fine ho trovato la soluzione perfetta una soluzione perfetta gratis perché questa è una delle scatole che mi arrivano quando faccio un ordine online di vinili sono diversi gli store che utilizzano questi cartoni ne basta uno di questo per trovare la misura perfetta vi faccio vedere guardate lo inserite così ora c'è anche la striscia led che mi fa un pochino di spessore però ecco per darvi un'idea avete quella scatola lì tac e siete quasi a filo insomma alla misura proprio giusta quali sono le alternative se non abbiamo quelle scatole ritagliare i cartoni di amazon o i cartoni riciclare i cartoni della pizza che hanno la misura giusta probabilmente prima puliamoli se no si ammuffiscono e fanno ammuffire i vinili mi raccomando oppure li compriamo dal pizzaiolo vuoti dicevamo ricicliamo i cartoni con cui ci arriva a casa il nostro vinile che abbiamo acquistato lo tagliamo perché quelli di amazon sono per ovvi motivi più grandi della misura del calax lo ritagliamo facilmente con un gigio del genere un taglierino e lo andiamo a posizionare dietro vedete che sono apposta così precisi perché se balla il cartone è inutile naturalmente lo spessore di uno come questo vediamo se riesco a toglierlo non ci riuscirò mai ecco ce l'ho fatta naturalmente lo spessore di uno di questo lo vedete è diverso e no stavolta non ce la faccio proprio è diverso da quello quindi ce ne vorrà più di uno tenete conto tre quattro cinque come questo sempre se volete ottenere questo effetto e non è obbligatorio un'altra cosa un'altra cosa un'altra soluzione gratuita che ci dà direttamente Ikea questi sono alcuni dei pannelli carton cartonaccio insomma quelli che mettono nell'imballaggio del Kallax e di altri mobili per evitare che si danneggi l'MDF durante il trasporto e la movimentazione sono belli resistenti adesso ho fatto apposta a pigiare ovviamente si buca no c'è la nocca ma se li movimentate come persone normali e non come invasati non succede nulla vedete anche questi vanno tagliati ne serviranno un paio di questi e sono gratis e possiamo ottenere questo effetto sempre se lo vogliamo se vogliamo utilizzare questo metodo dello spessore per avere i vinili più a filo ma come abbiamo visto nel caso di Daniele il Kallax dista un po' troppo dalla parete per cui se metto questo mi casca in terra perché non c'ho un margine come possiamo fare beh una soluzione abbastanza pragmatica che io ho utilizzato in altri Kallax che sono nello studio e che non possono stare a contatto della parete come ho fatto ho utilizzato il nastro telato quindi il nastro professionale non il comune nastro da pacchi perché è molto più resistente come fare o ne mettiamo due strisce a x qui dietro insomma e le facciamo attaccare qui dietro naturalmente dove non si vede dove noi non vediamo oppure ne mettete due o anche tre in orizzontale in modo che quando voi andate a posizionare il fantomatico spessore questo spessore si attacca o comunque non casca in terra perché c'è il vuoto tra il callax e parete va bene è una soluzione antiestetica al 100% per cui le vostre mogli chiederanno il divorzio e le vostre compagne o compagni fuggeranno a gambe elevate antiestetica al 100% però molto pragmatica perfezionata o meno la profondità del mobile è il momento di inserire i vinili che devono essere posizionati in questo modo in piedi insomma non adagiati così non solo per motivi di praticità perché prendere un vinile e rimetterlo a posto da qui tenendo conto che ci sono tutti questi altri sopra adesso ovviamente li ho tolti per praticità però ecco dicevo prendere un vinile da qui in basso sicuramente è più scomodo che prenderlo da qui non solo per praticità vengono messi in questo modo ma anche per conservare vinile e copertina il più a lungo possibile perché perché la pressione esercitata dal peso di tutti i vinili su copertine e dischi che sono alla base in questo modo tutta la pressione che si esercita su questi vinili che sono alla base ovviamente sarà superiore rispetto alla forza esercitata dagli altri vinili su questi una pressione troppo elevata come si verificherebbe in questa disposizione tende a deformare sia la copertina che il vinile quindi va evitata assolutamente se vogliamo conservarli il più a lungo possibile prima deperisce la copertina prima si rovina la copertina poi si rovina anche il vinile naturalmente per lo stesso motivo dobbiamo evitare che in questa disposizione i vinili siano troppo strippati tra loro vi faccio vedere ecco ho riempito questo blocco non sono tutti strippatissimi però rende l'idea guardate ad esempio lo scomparto superiore io di solito li tengo così per darvi un'idea ma ci arriviamo dicevo perché non è consigliabile una sistemazione di questo tipo in piedi vanno bene ok perfetto però non devono essere troppo strippati troppo appiccicati perché innanzitutto è più scomodo da tirarli fuori non sto facendo finta non sto esagerando è effettivamente più scomodo da tirare fuori nonostante ci sia il vantaggio della busta di plastica che facilita la presa in questo caso è molto più agevole fare una cosa di questo genere per scegliere che disco ascoltare in questo modo devo inserire il dito a fatica e insomma è più complesso poi una sistemazione troppo troppo strippata cosa comporta l'usura a lungo andare a lungo andare delle copertine cosa succede che magari le confezioni più massicce i doppi e i tripli vanno a pressare sulle copertine dei single sleeve lo avrete sicuramente visto anche voi magari in qualche collezione di un amico di un parente e così via o qualche foto che si trova online ci sono i single sleeve copertina singola insomma che si appiattiscono talmente tanto che non si riesce più neanche a leggere il titolo del disco perché? perché c'è stata una pressione dalle parti in una sistemazione troppo strippata che ha comportato l'assottigliamento della copertina quindi a lungo andare si rovinano le copertine e poi con molto tempo si rovina anche il vinile insomma è una soluzione che è un no per questi motivi come dicevo prima io di solito e facciamo così che li tolgo da qui per far vedere quanti ne tolgo ok allora facciamo così io di solito utilizzo una sistemazione di questo tipo dove sono comunque belli compatti e sono belli da vedere e adesso vi spiego cosa intendo per belli da vedere sono belli compatti però c'è gioco riesco a movimentarli tutti molto facilmente poi se voglio essere un pochino più previdente cosa faccio ne tolgo altri due perché? perché in questo modo visto che acquisto molti vinili ogni mese in questo modo magari se ne devo mettere quattro qui se per esempio mi compro quattro dischi dei fate no more che devo mettere qui e poi completo lo spazio a disposizione quindi il mio consiglio è sempre quello di lasciare un po' di aria tra vinile tra l'ultimo vinile e la parete il ripiano insomma del blocco del blocco callax o di qualsiasi altro mobile il ragionamento la fisica è per tutti uguale cercando di evitare di fare una cosa del genere poi naturalmente anche a me succede lo vedete nei video che ci sono dei vinili un pochino accasciati cosa significa questa cosa qui adesso faccio vedere quando magari un blocco non è completo che si crea questa questa cosa per cui a lungo andare se sono tutti inclinati adesso vedete che è artificioso quindi ci sono solo questi che sono ondulati obliqui però capita che ci sono interi blocchi che sono tutti obliqui cosa succede che ovviamente sempre per il discorso di fisica di pressione la parte superiore si rovinerà più rapidamente insomma non c'è una pressione omogenea di una copertina sull'altra quindi cercare di evitare il più possibile un andamento di questo genere ecco giusto per farvi capire ok cercare di evitarlo il più possibile non succede niente naturalmente non succede niente però a me da vedere non piace e poi questa copertina qui sicuramente qui sopra qui sopra subirà un po' l'effetto della pressione esercitata da tutti i vinili sulla copertina è sempre una questione di fisica poi alla fine di distribuzione ridistribuzione delle forze sembra di stare a parlare di metafisica chiaramente si fa così per per giocare con la nostra passione naturalmente se no poi ci rinchiudono tutti giustamente buttano via la chiave ok quindi evitare questa cosa qui eventualmente se abbiamo spazio in un blocco in questo modo come si fa anche qui ci viene incontro l'ikea lo tolgo da qui vedete qui c'è spazio c'è tanto spazio però stavano dritti come non per miracolo ma con un fermalibro come questo pochi spiccioli all'ikea vedete cosa succede appena lo tolgo fate così tac in questo modo avete i vinili belli compatti e dritti non si muovono di una foglia top prima di chiudere l'argomento devo spendere due parole sui divisori questi qui che vedete e questi che hanno l'adesivo con la lettera da applicare questi li trovate nel mio negozio sono dei fogli di plastica sono un po' cari anzi tanto cari ci sono delle alternative naturalmente ma se avete un briciolo di tempo e voglia e a me mancano entrambi fateveli da soli riciclando gli imballi dei vinili o dell'ikea insomma fate come credete meglio utilizzate un po' di arte del fai da te che io non posseggo magari modificando dei divisori neutri come ha fatto Alfonso o fabbricando cosa più vi pare e piace come ha fatto Giovanni il consiglio comunque è di usarli perché aiutano veramente tanto nella ricerca di un disco o di un artista ripeto fateveli da soli se avete un attimo di tempo un pochino di creatività basta veramente poco non fate come me che ve li acquistate come questi già fatti poi ci mancherebbe se volete ci sono a quanto vedo sei incasinato stai rimettendo in ordine tutti i dischi in che ordine però cronologico no non è alfabetico non è alfabetico e cos'è autobiografico no dai non ci posso credere credici posso dirti come sono passato dai di purple ad howling wolf in 25 tappe è incredibile non solo se devo trovare l'enslide dei Fleetwood Mac faccio mente locale lo comprai per regalarlo nell'autunno dell'83 cerco in quella pila e lo trovo perché non lo regalai più per ragioni personali un sistema confortante sì questo è un assist che ci viene sempre facile dal film Alta Fedeltà mi raccomando leggetevi anche il libro di Nick Corby dedicato a qualsiasi appassionato di musica e o collezionista ne vale veramente la pena insomma parlavamo di come ordinare i nostri vinili ci aiutiamo anche con i divisori questi o altri io anni fa separavo artisti italiani e internazionali quindi entrambi dalla A alla Z oggi sia per i cd che per i vinili non ho differenziato sono tutti mischiati quindi italiani e stranieri sono tutti insieme in ordine alfabetico dalla A alla Z solo per i vinili inoltre utilizzo questa macro classificazione A Z ma ci sono alcuni settori dedicati ad un artista magari come Beatles Queen Metallica di cui ho veramente tanto materiale oppure ad un genere di cui ho veramente tanti vinili in questo caso la subclassificazione viene fatta non solo per il numero di vinili che sono corposi insomma ma anche per andare a colpo sicuro quando voglio gustarmi un disco squisitamente prog o metal o jazz per chi ha una collezione più contenuta tra i 100 e i 300 vinili e vuole evitare il classico Kallax o qualsiasi altra mobilia fissa l'alternativa viene data da queste cassette portavinili avete visto ce ne sono di diversi tipi qui ad esempio Retromusic , GPO e Navaris ce ne sono anche altri su Amazon che potete provare se volete io vi faccio vedere queste perché sono le migliori che potete trovare secondo i miei gusti di solito vengono dichiarate per 100 vinili vedete che le mie non sono tutte piene ci sono un po' di buste un po' di spazio eccetera di solito vengono dichiarate per 100 vinili alla fine se sono tutti con la busta esterna e se avete più di un doppio o triplo ce ne entrano tra gli 80 e gli 85 tenete conto di questo quali sono qual è la migliore per i miei gusti in assoluto la Retromusic quando le ho comprate io cioè due anni fa due anni e mezzo fa costavano la metà di quanto costano ora 62 io le pagai tra i 38 e i 39 euro feci uno stock ne comprai 4 o 5 probabilmente due infatti sono alle mie spalle e sono la stessa cosa di quello che trovate adesso cambia che adesso viene fornito anche un telo opzionale se volete potete metterlo sopra i vinili per ripararli dalla polvere insomma dai pelucchi eccetera eccetera a me non è che fa impazzire e poi soprattutto costa molto di più e la cassetta è rimasta la stessa intendiamoci costruttivamente è quella fatta meglio complessivamente è solida è stilosa mi riferisco al logo gpo c'è una corona che me ne frega qui c'è il disco è più carino mi piace anche la variante legno navaris costa la metà costa 30 euro ha tre varianti questo colore non è il massimo devo dirlo però quando l'ho comprata io era l'unico disponibile ne ho comprate due insieme adesso c'è anche la variante bianca e legno più scuro che è quella che vi consiglio se vi piace questa retro music e volete risparmiare costruttivamente si sente che è più più cheap rispetto alla retro music però ripeto costa 30 euro e poi ha due sezioni di lavagna dove potete scrivere perché nella confezione ci sono anche i gessetti due gessetti bianchi qui magari ci scrivete dall'a alla g oppure fate una cassetta per genere dove magari ci mettete i vinili degli artisti italiani come vedete arrivano tutte con le ruote la gpo forse non ce l'aveva le ho montate io a parte le ho comprate dal cinese le ho avvitate io però sia le navaris che le retro music arrivano con le ruote nella confezione da montare i vantaggi quali sono questa è più solida e secondo me più carina più stilosa questa costa molto meno rapporto qualità prezzo vince la navaris concludo dicendo che sì ce ne sono anche altre queste sono quelle che mi soddisfano di più le altre le ho rimandate indietro il bonus ci andava per forza come dimenticare le nostre collezioni di 45 giri e cd per i 45 giri esistono tanti metodi fai da te uno praticissimo lo utilizza Enrico riadattando le scatole delle scarpe guardate come è tattico potete personalizzarlo con adesivi disegni ritagli di giornale insomma è super economico e super creativo quindi è il metodo che consiglio sopra ogni altro e lo stesso vale per i 33 giri anzi se vi siete creati da soli riciclando altri materiali i vostri raccoglitori per vinili pubblicate una foto su Instagram e taggate vinilicamente all'interno della foto così poi farò un clip al volo per commentarli sul canale Telegram io come ho fatto con i 45 giri sempre per la serie arrangiamoci questo è un fustino per detersivo e ci ho messo una parte dei 45 giri che avete visto qui per tutti gli altri soprattutto quelli nuovi ho visto aguzzando l'occhio che Francesco usa il mio stesso raccoglitore eccolo qui super tattico bello solido tra l'altro questi raccoglitori sono ottimi per chi fa i mercatini perché guardate che si aprono questa parte il coperchio superiore va via e rimangono a bella vista questi guardate ok veramente veramente tattico anche questo lo trovate nel mio store il link qui sotto in descrizione ci trovate anche gli scaffali che utilizzo per i cd però per i cd ci spostiamo in un'altra stanza mentre Ringo controlla la situazione vi faccio vedere il mobile anzi i due mobili i due scaffali per cd sono uniti sono messi accanto uno all'altro eccolo qui il confine questo è lo scaffale tech take che trovate nella sezione vinyl care del negozio su amazon il link è in descrizione una soluzione perfetta per chi come me ha circa 1500 cd infatti un modulo ne contiene circa 800 in questo caso la soluzione di Ikea la vedete è quella colonna messa in posizione verticale non è la sua posizione naturalmente assolutamente no ne contiene circa 100 di cd io la utilizzo per sistemare così al volo cd dvd e blu-ray in ascolto e in visione ma non va bene per la mia collezione che è più nutrita rapporto qualità prezzo di questo scaffale tech take ottimo naturalmente si tratta di mdf niente di pregiato però lo spessore è quello giusto la profondità è ottima veramente un oggetto che ci può salvare in caso di collezioni nutrite e ci siamo abbiamo visto alcuni metodi per sistemare come si deve la nostra collezione di vinili a 33 e 45 giri e anche dcd tutti i consigli che vi ho dato per una corretta conservazione non possono che condurre allo step successivo teniamoli per bene perché in questo modo dureranno più a lungo ogni tanto però vanno anche lavati sarà argomento della prossima puntata di vinyl care se questa rubrica è di vostro gradimento lasciate un like iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e attivate la campanellina supportatelo acquistando buste cassette ed altri accessori nella sezione vinyl care del mio negozio e anche pre-orders ultimi acquisti eccetera eccetera in attesa di fare un bello schiuma party a tema vinilico a presto e buoni ascolti bye sid i really love you and i mean you iscriviti al canale a presto